Sindaco, le sezioni riunite sembra abbiano rigettato il vostro ricorso relativo alla situazione dei conti. Lei ci conferma innanzitutto questa cosa e come la conferma? Allora, io non ho ancora avuto il dispositivo e quindi una valutazione piena la faremo stasera. Stanno tornando il capo di gabinetto, il direttore generale, il ragioniere capo e l'avvocato Andreottola. Quindi ho le notizie telefoniche di alcune conversazioni che ho avuto e le notizie certe sono queste. Abbiamo avuto l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda la questione del 2014, il rigetto per la questione del 2016 come in motivazione. Siccome le motivazioni non ci sono, noi abbiamo cercato di capire qualcosa in più e non abbiamo capito, e quindi siccome la motivazione ti dà la linea di valutazione se questa è una notizia assai brutta, brutta, bruttina o addirittura benino o addirittura che non ha particolari conseguenze per la nostra città. Quindi io non posso commentare ciò di cui non conosco. Stasera faremo comunque una valutazione anche in base a tutte le opzioni, pur senza sapere la motivazione. Ma ve lo dico già da adesso, per avere un quadro chiaro dovremmo avere le motivazioni che da quello che ho capito dovrebbero arrivare prima della scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. Quindi ritengo che ci saranno fra 15-20 giorni. Da quello che ho un po' capito però non è che dipende da me, dipende dai giudici. Quindi oggi mi sento di esprimere soddisfazione per l'accoglimento del ricorso e preoccupazione e anche sommata a un po' di profonda indignazione. Perché stiamo discutendo del CR8. A me questa cosa del CR8 mi fa rivoltare lo stomaco. Perdonatemi e mi fermo qua perché io debbo discutere da un anno e mezzo, due anni, da un debito di 100 milioni del 1981. Quindi su questo vediamo quale sarà l'effetto. Ma io su questo sono capace di mettere in campo la più grande mobilitazione politica che la città di Napoli dal dopoguerra in poi abbia conosciuto. Cioè questo è l'unica cosa che mi sento di dire. Può essere, non sarà necessario. Perché la motivazione, adesso io come sento il CR8 mi sale il sangue alla testa e quindi abbasso un attimo la pressione per non far compromettere il mio stato di salute. Ma finisce là. Quindi dobbiamo sapere. Però sappiamo per certo che stiamo discutendo del CR8. Quindi potrebbe accadere che la mobilitazione di Montecitorio è stato semplicemente un prosecco accompagnato da una tartana. Grazie, arrivederci.